signori l'amore non va in vacanza ri recensione fin del 2006 commedia con una super cameron diaz bellissima e bravissima gli avevo dato 8 e mezzo che forse un po troppo diciamo che un 8 è più che sufficiente è un buon film si è una bella commedia naturalmente abbastanza prevedibile però carina e rilassante da guardare basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciate un like ciao